Omicron corre veloce e sale ancora l'indice di contagio. In Campania sono 5.458 i positivi del giorno su 19.269 test effettuati, per un indice di contagio pari al 28,3% in aumento di un punto rispetto al dato di ieri. Due i decessi registrati dal consueto bollettino salgono ancora ai ricoveri in trapia intensiva, mentre sono 361 i pazienti in degenza ordinaria. Sfiorano i mille nuovi contagi nel Salernitano con 957 positivi, mentre in provincia di Avellino su 1.155 tamponi somministrati sono risultate positivi al covid e 304 persone. E tornano anche i contagi in corsia, almoscati, registrati una decina di casi nel reparto di medicina interna, con infezioni tra i degenti e il personale. Preoccupa in tutta la regione l'aumento dei ricoveri e infatti il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, annuncia un confronto con i vertici della sanità sannita per chiedere che siano potenziate le cure in casa con i nuovi farmaci. Sono ancora 26 i ricoveri nel reparto dedicato al covid dell'ospedale Sampio di Benevento, dove il direttore Mario Ferrante, che a breve lascerà l'incarico per dirigere l'asla di Avellino, conferma che l'emergenza continua a richiedere attenzione e risorse. Per quanto riguarda il covid noi teniamo ancora delle posti letto attivi perché il virus ancora non è stato debellato. E per l'interesse dei pazienti noi abbiamo lasciato oltre 40 posti letto sempre attivi per eventuali ricordi.